Salve a tutti amici, ben trovati sulla finanza sul web. La Russia sta passando un momento difficilissimo, probabilmente il più difficile che ha passato dall'inizio della guerra in Ucraina, non soltanto di quella guerreggiata con l'inizio dell'operazione speciale, ma anche della fase precedente di scontro con l'Occidente. Come tutti sapete Prigojin, il capo, il padre e padrone della brigata Wagner, si è ribellato contro lo Stato russo e ha dato inizio a un'insurrezione armata, dichiarando che è iniziata la guerra civile e marciando verso Mosca. Secondo quello che riportano le informazioni attualmente disponibili, si troverebbe a 500 chilometri da Mosca, che è stata blindata praticamente, sono scattate le misure antiterrorismo e quindi l'intera città, l'intera capitale della Russia è blindata con posti di blocco praticamente a ogni angolo. Putin ha parlato alla nazione, ha parlato di tradimento di Prigojin, ha citato il 1917, ha affermato che i traditori saranno duramente puniti. Che cosa sta succedendo? Perché siamo arrivati a questo punto? Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, Prigojin si era posto in forte contrasto con i vertici militari della Russia, non con il Presidente Putin, ma con i gerarchi dell'esercito, sostenendo che la brigata Wagner, che soprattutto nella prima fase della guerra ha combattuto nelle zone dove i combattimenti erano più violenti, l'accusa appunto di Prigojin era che la Wagner fosse lasciata sostanzialmente senza i necessari armamenti e senza le necessarie munizioni, quindi chiedeva costantemente più supporto sia in termini logistici che in termini di uomini e finanziari. Da qui erano nate una serie di critiche e di attacchi che si erano fatti sempre più violenti, fino a incitare la popolazione, i patrioti, come diceva l'ex cuoco di Putin, a ribellarsi e a marciare nelle piazze. Secondo quello che riportano i media, il governo russo ha cercato una mediazione con il capo della Wagner che però non è riuscita e che ha portato alla rivolta vera e propria. Ma cerchiamo di capire chi è Prigojin e che cosa verosimilmente punta a ottenere. Prigojin è un ex galeotto, era stato condannato a 13 anni per furto e altri reati. Ne aveva fatti nove, uscito di prigione aveva deciso di fare una vita più tranquilla, più normale, aveva aperto un chiosco di hot dog. A quanto pare questo chiosco è andato molto bene, quindi si è allargato aprendo un primo ristorante, poi un secondo di lusso, poi ha iniziato a fare il catering, ha aperto una società di catering che si è occupata anche di commesse per il Cremlino e di Stato, perché nel frattempo lui aveva conosciuto Putin e alla fine ha fondato questa polizia privata, ossia la Wagner, che era di fatto uno strumento della Russia e di Putin, perché la Wagner, soprattutto nella prima fase, è stata utilizzata per combattere in quelle zone, in particolare in Medio Oriente, in Siria e anche in altri teatri di guerre asimmetriche, quel conflitto in cui la Russia non poteva intervenire direttamente e quindi delegava informalmente questa sorta di esercito privato informale di combattere quelle guerre dove era meglio che Mosca ufficialmente non comparisse. Dopo una serie di successi notevoli in Medio Oriente e la crescita esponenziale del peso di Prigogine nell'ambito russo e della forza della Wagner stessa, è scoppiato il conflitto in Ucraina dove i miliziani della Wagner hanno combattuto. Qui sorge un primo dubbio, perché le critiche durissime di Prigogine verso i vertici dell'esercito russo possono essere lette in due differenti maniere. O Prigogine puntava a scalzare l'esercito russo regolare e a trasformare la Wagner in una sorta di guardiani della rivoluzione come c'è in Iran, cioè nella vera forza armata russa e magari puntava a una diarchia con Putin, forse addirittura in attesa di sostituirlo e quindi magari queste critiche erano semplicemente strumentali. Però verosimilmente ci sono anche degli elementi concreti nelle accuse di Prigogine e questo lascia intendere che forse la crescita esponenziale dell'importanza di quello che è un privato, cioè di quella che è una milizia privata, preoccupava le istituzioni russe. L'utilizzo della Wagner nello scenario ucraino non doveva superare un certo livello, cioè non doveva la Wagner ottenere travolgenti successi militari che avrebbero rischiato di mettere in ombra lo stato ufficiale russo e dare a lui un potere assolutamente non controllabile. Forse da qui va cercata la ragione per cui in una certa misura sono stati centellinati i rifornimenti alla stessa Wagner. Fatto sta che nel momento in cui Mosca ha iniziato a limitare l'appoggio logistico all'esercito privato di Prigogine, questo ha iniziato prima una serie di attacchi verbali e ora una vera e propria rivolta. A che cosa punta? L'idea, Prigogine ha parlato di guerra civile, l'idea di una guerra civile a me sembra abbastanza peregrina, per una ragione che per quanto forte dal punto di vista militare e per quanto armata, la Wagner è una struttura privata, diciamo che è un po' come i metronotte da noi, sapete quelle polizie private che controllano i parcheggi, le ditte eccetera, enormemente più potente, ma non legata a un progetto politico, a un rapporto con il popolo russo. Le guerre civili scoppiano quando ci sono due visioni della politica totalmente antitetica oppure due gruppi etnici o di altro genere che si scontrano. In questo caso abbiamo una milizia privata che però non sembra avere nessun tipo di reale capacità di mobilitare le masse russe. A quello che sappiamo ora le città russe sono tranquille, non ci sono, non c'è nessun tipo di rivolta contro Putin o contro il Cremlino. Le reazioni internazionali sono state quelle di totale appoggio a Mosca da parte degli alleati sia delle repubbliche del Donbass, sia della Turchia, sia della Cina, eccetera. Mentre per quello che riguarda gli occidentali, gli europei in particolare, c'è una certa preoccupazione. Gli ucraini hanno festeggiato dicendo che Putin sta per cadere, salvo poi invitare una maggiore prudenza. Mentre gli europei sono molto cauti perché sono consapevoli del fatto che laddove questa rivolta prendesse piede, laddove la Russia entrasse in una guerra civile, la situazione sarebbe quella di una superpotenza militare con uno sterminato arsenale atomico che a questo punto non si capirebbe più a chi va in mano. Però, ripeto, la questione a me sembra molto difficile. Quella di Prigozhin sembra una mossa più da giocatore d'azzardo che da stratega, perché che i suoi uomini sconfiggano l'esercito russo a me sembra totalmente lunare. E di conseguenza dopo questo attacco che possa tornare a trattare per chiedere maggior peso e maggior influenza all'interno delle istituzioni risulta ancora meno realistico. Tra l'altro è stato autorizzato il suo arresto e oltretutto in una perquisizione sono state trovate grandi quantità di banconote, un'enorme somma liquida che lo stesso Prigozhin ha giustificato come soldi che servivano alla Wagner. L'elemento di fondo di tutta questa storia che è estremamente preoccupante è che si è commesso da parte di Putin, pur per ragioni comprensibili, l'errore di garantire a un privato un peso militare troppo grande, troppo forte e nel momento in cui i ricatti, le richieste di questo privato non sono più state accolte dal Cremlino è scoppiata la rivolta. Dove porterà questa rivolta è molto difficile capirlo. Molto improbabile una vittoria militare di qualunque genere di Prigozhin, almeno sulla base della logica comune, sta di fatto che questo è un colpo molto duro per la Russia, soprattutto dal punto di vista psicologico ed è una situazione che si avvita ancora di più quella in cui tutti quanti viviamo, in cui i rischi di escalation incontrollabili diventano sempre più concrete. In tutto questo penosa la figura di Giorgia Meloni che ha dichiarato che quello che succede in Russia non deve distrarci dal supporto ucraino, quindi mentre tutta la realtà dell'Eurasia si precipita in una situazione sempre più pericolosa, l'unica cosa che il Presidente del Consiglio italiano si sente di fare è ribadire la sua totale e incondizionata obbedienza agli interessi di Washington che mai come ora sono antitetici rispetto a quelli italiani. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.